Sto bene, comunque era da tre anni che non facevo tre partite di fila per vari infortuni e adesso inizio a star meglio. Questione di episodi, perché comunque se non entrava il tiro di Marseille sotto l'incrocio magari la partita rimaneva ancora in bilico e non si sa come finiva. Poi siamo stati fortunati a raddoppiare e poi portarci sul 3-0 che ci ha dato sufficiente margine per portare a casa i tre punti. Crutone è sempre una squadra tosta da affrontare perché gioca molto bene a calcio. Vedremo sabato come si schiereranno perché hanno approvato due moduli e noi cercheremo di fare il primo tempo di Pescara per 90 minuti. Sì, in casa mi hanno fatto due partite non benissimo, comunque è una vittoria che ci dà stimolo, ci dà forza. Anche se a Perugia alla fine se andiamo a calcolare le occasioni da gol, al primo tempo Daniele ne poteva fare due. A parte quel fallo che non gli hanno concesso l'ultimo uomo, con l'occasione del tiro, del pallonetto. Se là ci portiamo sull'1-0 dopo 10 minuti cambia la partita. Siamo obbligati alla fine, è casa nostra e se vogliamo puntare ai nostri obiettivi bisogna vincere sia in casa che fuori.